Il Geometra 5.0 è il tema della tavola rotonda organizzata dall'Istituto Pilla di Campobasso in collaborazione con la Scuola Edile del Molise. Un momento di confronto utile per comprendere come sta cambiando la figura del Geometra con uno sguardo rivolto anche alla crisi in cui versa il settore edile in Regione. Presidente Galasso, nel corso dell'iniziativa che è tesa anche alla valorizzazione della figura del Geometra, lei è stato preciso su un punto in particolare, ha detto che il settore edile ripartirà. Da dove trai spunto questa convinzione tenuto conto del momento di grave crisi in cui si trova appunto il settore edile in Molise? Sì, semplicemente da quanto affermano i più grandi economisti che se si vuole uscire da una crisi bisogna ripartire dal mondo dell'edilizia. È l'unico volano che può rimettere in modo un'economia perché intorno al mondo dell'edilizia ruotano molte attività e quindi se si vuole uscire da una crisi bisogna ripartire da lì. Prima non a caso si sente parlare sempre di ricostruzioni, oggi c'è il problema della manutenzione perché in Italia si è sempre pensati a costruire e non si è mai pensati come poi mantenere le opere. Con tutti poi i casi eclatanti che sono emersi quindi si sta vedendo che bisogna iniziare a investire. Quindi sia dal punto di vista sociale perché significa riqualificare le città, infrastrutturare il territorio, ma anche perché poi è l'unico sistema per rimettere in modo un'economia. E se è vero questo, che ripartirà grazie al mondo delle costruzioni, è altrettanto vero che poi avremo bisogno delle professionalità per gestire questa ripresa economica attraverso il mondo delle costruzioni. Qui il ruolo della scuola è fondamentale. Il ruolo della scuola è fondamentale, il ruolo del geometra è altrettanto fondamentale perché è il primo passaggio nel mondo delle professioni tecniche. L'incontro di oggi è proprio per stimolare questi ragazzi a avere sempre questa sete e questa fame di sapere perché oggi il mondo delle costruzioni chiede la specializzazione. Quindi non il tutt'orgo, ma oggi si cercano le professionalità specifiche. Questi ragazzi sono in quella fase in cui devono iniziare a chiedersi cosa realmente poi vogliono fare da grandi. Rossella Gianfagna, dirigente dell'Istituto Pilla di Campobasso. Molise da poco si è dotato di un piano di dimensionamento scolastico. Come mai è ancora difficile in questo territorio programmare e ascoltare e tenere fede a quelle che sono le esigenze che si avvertono nel mondo della scuola? Guardi, io come dirigente scolastico non entro nel merito della scelta o di quello che è stato l'approvazione del piano di dimensionamento. Posso parlare della mia scuola con grande orgoglio e in questo caso soprattutto la figura del ruolo di quello che è il geometra che affrontiamo oggi. Ci piace pensare questa evoluzione di questa figura per un mondo sempre più smart e ragazzi sempre più attenti così come la scuola a quello che è il territorio. Qui noi siamo attenti a quella che appunto è la realtà che sta cambiando e di questo ne siamo orgogliosi. I ragazzi partecipano a molte attività che appunto sono direttamente collegate col mondo del lavoro e la tavola rotonda che abbiamo organizzato oggi ne è una prova anche perché il presidente dell'ANCE praticamente ha dato piena disponibilità insieme agli altri relatori a dare questa possibilità agli studenti di mettersi nel mondo del lavoro e di fare alta formazione. Il momento che vivono le scuole tecniche, che momento è soprattutto in Molise? Beh diciamo che il ruolo delle scuole tecniche è molto importante perché vanno a formare quelle che sono le figure quadro diciamo nel mondo della società civile. A livello nazionale non è facile diciamo proprio mantenere il passo anche con i licei però devo dire che in questi anni sono cambiati molto e che quindi c'è grande professionalità. L'altro tema importante è l'alternanza scuola lavoro, lei lo diceva prima, in questa scuola voi state puntando molto su questo? Sì assolutamente, è la scuola non solo del sapere, di avere le competenze, le conoscenze ma anche il saper fare.